Arrivano i nuovi innesti per la polisportiva Lioni e la polisportiva Bisaccese. Il direttore sportivo dei Blaugrana, Armando Mango, aveva promesso il colpo da 90 ed è arrivato nella tarda serata di ieri. Il club al Tirpino ha annunciato l'ingaggio di Francesco Di Ruocco, attaccante con molta esperienza in eccellenza. Ex Sant'Ommaso, Cervinare, Gragnano tra le altre, ha vinto proprio in Irpinia con gli Avellinesi di Messina il campionato di eccellenza della stagione 18-19. E a Gragnano qualche stagione prima, un calciatore che non ha assolutamente bisogno di presentazione e che va a rinforzare il reparto offensivo, che sta trovando in un altro colpo, Sibire Ciamberlain, un altro tassello importante per la salvezza. A Mugnano del Cardinale, il terzino Mario Severino per il momento resterà fuori dai campi da gioco, dopo un brutissimo incidente stradale, quello ha visto protagonista prima delle festività natalizie. A Bisaccia, dopo la vittoria a tavolino sul Monte Sarcio e la zona salvezza adesso a 4 punti, arrivano 6 nuovi calciatori, a disposizione del tecnico calciatore Marco Lattarulo. Ecco gli ex Virtus Avellino, il portiere Antonio De Matteis, Corcione e Domenico Caliano. Cassano invece proviene da importanti esperienze nei campionati di eccellenza Mollisana e Campana e del grande invece ha indossato nell'ultima parte di stagione la maglia del Foggia in Cedit. In Granata ecco anche l'esterno Fofanà.